Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Direzione Firenze, per intervento di ripristino frana chiusura dell'uscita verso via Quaglierini in direzione Mare, per lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze, la viabilità cittadina a Firenze, per lavori in via Maragliano restringimenti di carreggiata all'altezza di via Bellini. Buon sito Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!